Polifemo è all'interno del centro commerciale Mongolfiera di Taranto, tanti eventi, io dico sempre la Mongolfiera è una città all'interno della città dove si fanno varie, si tengono varie iniziative e lo spettacolo la fa da padrone e oggi è il turno dei casting di Generazione App siamo con Giuseppe Stigliano che è appunto l'organizzatore, giornalista, presentatore, insomma un esperto nel mondo della comunicazione ed è importante quindi questa vetrina perché poi il successo non si raggiunge per caso non crediamo alle favole di essere baciati dalla fortuna ma è un qualcosa che si costruisce giorno per giorno cogliendo al volo quei tram in corsa e uno di questi tram certamente è questo casting di Generazione App allora Giuseppe dici tutto tu perché sei del mestiere certo, d'accordissimo intanto sul concetto del successo conquistato a scalini vale a dire non un successo effimo, non un successo effimo, per successo effimo intendo quello conquistato d'Amblè ma invece uno conquistato proprio a scala Generazione App l'abbiamo definito il primo a varietà del sud Italia nel senso che adesso il mondo televisivo è costernato da tanti talent, da tanti reality show e quindi un po' è cambiato il mondo dello spettacolo il varietà da qualche anno ormai è andato scemando via via noi abbiamo pensato con Giovanni Stellato della Fashion App e con Stefano Delrico del centro commerciale Mongolfiera, il direttore del centro commerciale Mongolfiera di riportare in auge un varietà che negli anni 90 è stato il varietà simbolo della televisione italiana portato al successo dal grande ed indimenticabile Gianni Boncompagni insieme a Irene Gergo, due degli autori più proliferi della storia della televisione italiana Generazione App, che cos'è? richiamano nella RAI il varietà di Boncompagni e Gergo che chiaramente è finito 26 anni fa quindi noi cercando di riportarlo in vita abbiamo anche in qualche modo voluto aggiornarlo ai tempi moderni per cui non ci sarà solo la gara bionde contro more piuttosto che il cruciverbone ma abbiamo pensato di inserire anche spazi nuovi e tra questi l'angolo influencer la moda dell'influencer ormai su Instagram con l'avvento di Instagram sta andando molto forte piuttosto che anche l'angolo youtubers un altro spaccato della nostra società contemporanea fenomeno di massa travolgente ormai sì, ormai sì, i social ecco, con l'avvento degli anni 2010 i social hanno preso il posto delle riviste, dei settimanali che costernavano invece le pagine delle ragazze di Non è la RAI abbiamo voluto riportare in vita un varietà però, ripeto, aggiornandolo ai tempi contemporanei soprattutto vogliamo dare spazio a tutte quelle ragazze che pur avendo delle belleità nel mondo dello spettacolo e parliamo di canto piuttosto che di danza, di moda ma anche ragazze che sappiano semplicemente essere all'altezza di un programma televisivo perché si tratta di un vero e proprio programma televisivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti